buonasera è il capitano che vi parla da una destinazione iconica i riflettori si accendono ogni ombra si dissolve illuminando il palcoscenico dove la passione diventa protagonista indiscussa è il momento di entrare in scena e vivere una nuova esperienza dove ogni parola ogni gesto ogni sguardo scrivono un nuovo capitolo di una storia straordinaria grazie